Io mi chiamo Nufu, Nufu Iabre. Sono entrato in Italia il 4 marzo del 2008. Sono arrivato a Lampedusa. Poi mi hanno portato proprio a Catanissetta, a gara di Catanissetta che si chiama Pian del Lago. Sono stato là ben tre mesi, essendo minorenne, dopodiché mi hanno portato a Maserino, l'Associazione dei Girasoli. Un'associazione che mi ha dato un trapianto di cuore per affrontare proprio il mio percorso e adesso con tutte le difficoltà che ho affrontato, però con la buona volontà che ti ho messo, oggi mi trovo bene, che faccio parte di questa famiglia dell'Associazione dei Girasoli e lavoro come mediatore culturale. C'è il seriato a Lampedusa con un gommone. Non lo chiamiamo una barca. Sarebbe un grandissimo divertimento, non è un barca. Sono tante le cose che sono successe oggi con Nufu che mi ha portato in giro per Catanissetta raccontandomi un po' la sua storia. Ero lì mentre lui chiamava casa e va detto che sua madre, la madre del Burkina Faso, gli aveva detto di salutare la sua famiglia italiana, i suoi genitori italiani, Calogero e Cettina, che qui sono diventati suo padre e sua madre, che qui lo hanno accolto, l'hanno fatto studiare e adesso Nufu è un mediatore culturale e quindi per lui comincia qualche cosa a che fare, come dice lui, non con l'integrazione, che è una parola che non gli piace perché lui viene dal Burkina Faso che è il paese degli uomini integri, ma con l'interazione e quindi con uno scambio reale tra le persone, tra chi accoglie e chi arriva. Grazie.